Allora, la cosa più interessante oggi è questa novità, cioè piano cucina in gress con induzione invisibile. Induzione invisibile significa che ci sono queste sabbiature leggerissime e quindi invisibili che corrispondono proprio alla sagomatura su cui appoggiare le pentole. Questo permette quindi di avere un piano di induzione che funziona con un semplice telecomando che accende le zone che volete e permette di avere un unico piano, quindi facilissimo a tenere il prodotto. Bellissimo esteticamente perché non c'è mai giunzione, materiali diversi, prodotti difficili da pulire tipo piano in acciaio o piano in vetro e senza pentole è un capolavoro. Quindi nel momento in cui cucinate è bello, nel momento in cui cucinate è bellissimo. Grazie!